Sale a 560 euro l'importo riconosciuto per ciascun figlio minore per i titolari di carta famiglia residenti in Friuli Venezia Giulia da più di 5 anni e viene innalzato da 30 a 35 mila il limite ISEE per accedere al contributo. E' quanto prevede il nuovo regolamento per la misura di sostegno alla natalità che riconosce un assegno annuale per coprire spese formative, culturali, turistiche o sportive a beneficio dei figli minorenni. Il provvedimento è stato approvato in giunta regionale su proposta dell'assessore alla famiglia Alessia Rosolen. Per la copertura finanziaria della misura sono stati istanziati 74 milioni di euro nel triennio 2024-2026. Inoltre con la legge di stabilità è stato innalzato il valore ISEE da 30 a 35 mila euro. Se ad oggi si registravano circa 37 mila possessori di carta famiglia, secondo le prime stime se ne potrebbero aggiungere altri 5 mila per effetto dell'inalzamento della soglia ISEE. La misura base della dote famiglia è pari a 280 euro per ciascun figlio minore, mentre raddoppia per i residenti da più di 5 anni. E inoltre è previsto una maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità. E' un contributo richiedibile una sola volta l'anno dal titolare di carta famiglia per le spese sostenute per tutti i figli minori in carico al nucleo familiare nell'anno in corso. Modificato anche il termine di presentazione delle domande dal 1 gennaio al 1 aprile di ogni anno.